Negli ultimi sette giorni riscontro di 34 pazienti positivi al covid tutti in isolamento domiciliare. 10 pazienti di Caltanissetta, 8 di Gela, 3 di San Gataldo, 2 di Butera, 2 di Mazzarino, 2 di Mussomeli, 2 di Niscemi, 1 di Marianopoli, 1 di Montedoro, 1 di Santa Caterina Villarmosa, 1 di San Matino e 1 di Sutera. Ricoverati in decenza ordinaria 3 pazienti di Caltanissetta, 3 di Gela, 1 di Mazzarino, 1 di San Gataldo e 1 proveniente da fuori provincia. Dimessi dalla decenza ordinaria 7 pazienti di Caltanissetta, 1 di Niscemi, 1 di Santa Caterina Villarmosa, 1 di Mussomeli, 1 di Butera e 2 provenienti da fuori provincia. Deceduto un paziente di Niscemi positivo al covid. I guariti sono 70 di San Gataldo, 49 di Gela, 42 di Caltanissetta, 24 di Niscemi, 20 di Serra di Falco, 10 di Riesi, 9 di Butera, 8 di Mussomeli, 7 di Mazzarino, 7 di Resuttano, 6 di Milena, 6 di Vallelunga Pratameno, 5 di Montedoro, 4 di Delia, 4 di Sutera, 3 di Sommatino, 1 di Marianopoli, 1 di Santa Caterina Villarmosa e 1 di Villalba. Grazie a tutti! Grazie.